Dopo l'attento lavoro di scrematura tra master che vedevo non mi offrivano esperienze professionali, ovvero dove si faceva tanta scuola e tanta teoria ma poca pratica, ho scelto Masterbook. Non solo perché ti offre un'opportunità come quasi tutti di stage, ho terminato il percorso di master. Quindi la possibilità di fare un percorso che mi desse delle competenze per lavorare in redazione. Ho imparato anche un sacco di cose dal lato puramente umano, abbiamo conosciuto persone fantastiche, abbiamo imparato a lavorare insieme. Insomma ha soddisfatto pienamente le mie aspettative perché appunto ci ha dato una panoramica completa di tutto quello che c'è dentro una casa editrice. Toccando tutti i vari aspetti, magari entri e pensi di essere adatta all'editing e invece scopri che ti piace la grafica piuttosto che l'ufficio stampa. C'è anche lavorare sulle copertine, è un'esperienza per me nuovissima e davvero bella. Consiglio Masterbook a tutti quanti quelli che amano i libri e vogliono entrare nel mondo della pubblicazione dei libri. Consiglio Masterbook innanzitutto perché ci si diverte, insomma anche questo. E poi perché è un'importante esperienza che in qualche modo ti apre delle possibilità al mondo del lavoro. Se consiglierei Masterbook ai futuri aspiranti dell'editoria, sì, senz'altro. Iscrivetevi a Masterbook perché è un'esperienza stupenda.